Nessuno dei due, sia l'amministrazione che noi secondo me deve essere scontenta. Abbiamo raggiunto come categoria un buon risultato per quanto riguarda il rapporto con l'utenza e come comune secondo me hanno raggiunto anche loro l'amministrazione un buon risultato perché la tariffa di 10 euro nel comune di Ischia rimane, però vengono aggiunti dei supplementi. La somma di tutti i supplementi però nel comune di Ischia non può mai superare i 15 euro, quindi l'utente che arriva con una valigia pagherà 11,50 euro, due o tre utenti che arrivano senza bagagli pagheranno sempre 10 euro. Se arrivano con quattro bagagli invece di 16 pagheranno sempre 15 euro perché la tariffa non può superare al massimo i 15 euro. Parliamo del comune di Ischia, quindi penso che la categoria deve essere soddisfatta e anche l'amministrazione. Abbiamo avuto una bella discussione tranquilla, elevata, di livello culturale e l'abbiamo terminata con questa soluzione. La fumata stavolta è bianca, è bianca. Il sindaco ci ha dato quello che noi abbiamo chiesto, i servizi al di fuori della tariffa. Rimane sempre il fattore che se vengono le persone senza bagagli verrà sempre la tariffa di 10 euro. Poi ci sono stati aggiunti i servizi come in bagaglia a 1,50 euro, massimo a 15 euro. Ci sono stati messi in notturno, come abbiamo detto l'altra volta, in più gli animali pure all'interno. Però non si deve passare la 15 euro, questo per noi ci sta bene.